Guardi che forza quel centro lo devi spostar da un'altra parte. Ti rendi conto che esattamente quello che succede da un mese con questi 30 poracci che fanno le palline del flipper da un quartiere all'altro? Che se uno a un certo punto non fissa un principio... Asta casa dei principi vale solo per la vita mia.